E invece tu? Io cosa? Se potessi andare ovunque, in un posto del mondo, tu dove andresti? Io vorrei fare parte di qualcosa di più grande. Amo questa risposta! Qualcosa che è duri, che abbia un significato, qualcosa di davvero straordinario. Sì! È scritto nelle stelle, e io sono una stella. Se avessi soldi, li spenderei solo per divertirmi, capisci? Non per cose noiose come le tasse. Voglio solo che tutti facciano sempre festa. Quando arrivai a Los Angeles, c'era scritto su tutte le porte, vietato l'ingresso a cani e attori. Con me è cambiato. E ora? Tutti pronti per qualcosa di diverso? Tranquilo, tranquilo, signori. Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo ridefinire lo stile. Mettere a fuoco quei sui, imprimerli nella storia, alzare lo sguardo e dire... Evviva! Io non sono solo. Sono in un mare di guai, Manny. Dobbiamo andarcene. Adesso. Il mio lavoro ha un senso. Dai! Ti credevi indispensabile qui? È più grande di te. Oh noia! Ma che cazzo! È il posto più magico al mondo. Aprite le orecchie, tutti voi cazzoni che ve la tirate tanto! Chi vi vuole vedere lottare? Sono un cazzo di serpente! Cazzo sì! Cazzo sì! Cazzo sì! Cazzo sì! Cazzo sì! Cazzo sì! Cazzo sì!